Lo scorso anno avevamo elogiato l'amministrazione comunale perché aveva fatto delle cose davvero sorprendenti per Perugia, asfaltare le strade. 25 anni di governo di sinistra e noi le strade le avevamo viste fare, rifare, asfaltare solo per occasioni rare. A Perugia si diceva o passa il Giro d'Italia o arriva il Papa o passa la Tirreno Adriatica. Due corse ciclistiche e un evento straordinario come quello del Papa. Neanche l'arrivo del Presidente della Repubblica poteva tanto perché tanto il percorso era studiato. Adesso l'amministrazione comunale di centrodestra, vuoi per la fibra, vuoi per l'impegno che ci si è messo, aveva deciso di fare una colata d'asfalto. E si era fatta una bella colata d'asfalto. Io ricordo con un certo stupore, con emozione, quando asfaltarono via della pallotta liscia e piana come il tappeto di un biliardo. Bella, così bella e nera, silenziosa nello scorrimento che destava una certa sorpresa. E tu dicevi ma non è possibile che un'amministrazione comunale riesca a fare questo. E poi arriva novembre, arriva dicembre, si ferma tutto, arriva gennaio e quella stessa strada. Parlo solamente di via della pallotta, delle altre non ne voglio parlare. E quella stessa strada mostra già i segni del tempo. L'asfalto rifatto viene ad essere tolto dal passaggio delle macchine, dal passaggio dei pullman, dal passaggio dei mezzi pesanti e ritorna pian piano quella strada che era una volta. E tutto il resto? Quando uno passa per via Pellini? Quando uno si avventura in via Pellini che cosa deve sperare? Che non si spacchi una gomma, che non cada con la motoretta, che non si spacchi un ammortizzatore, che andando a frenare la macchina freni e non metti sotto il pedone che ha attraversato? Tutte le altre strade che ci sono, tutte quelle che era stato promesso dall'assessore e dall'amministrazione che sarebbero state fatte, quando verranno fatte? Quando ci si riuscirà a mettere mano? Non dico di asfaltarle tutte, benedetto il Dio, perché è un'impresa quasi impossibile, ma perlomeno a sistemare le buche. Qui davanti alla televisione che ci ospita, l'altro ieri Umbria ha fatto l'intervento e ha sistemato il posto da dove ha fatto l'intervento in maniera perfetta, una pezzatura di asfalto rettangolare millimetrico, preciso, senza una sbordatura, senza un qualcosa che può essere stonato. Allora le macchine per fare questa cosa ci sono, la vecchia macchina tappa buchi che aveva tirato fuori il buon sindaco Boccali, che fine ha fatto? Perché ci mancano tutti questi soldi per tappare le buche? E tutti i soldi che arrivano che vengono presi dalla tassa di scopo della tassa di soggiorno negli alberghi, due euro per ogni cranio che soggiorna a Perugia, che dovevano servire per questo, che fine hanno fatto. Ma allora i soldi ci sono o non ci sono? Queste benedette buche le si vuole attappare o vogliamo tornare ad un anno dalle elezioni a far pensare ai cittadini perugini che tutto è cambiato perché nulla cambi? Che le buche sono ancora una volta l'esempio di quello che è l'amministrazione di una città. Ha voglia di essere felici, ha voglia di essere contenti, se le buche restano, restano le stesse cose che c'erano prima. Tutto cambi perché nulla cambi. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata. Grazie a tutti.